Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il nostro modo nuovo di interpretare la mission aziendale. Grazie a tutti. 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 Abbiamo fatto una mostra che, vabbè, indipendentemente che uno dica è bella o non è bella, però è profondamente importante. L'abbiamo potuto fare grazie a chi? Grazie a un'industria sensibile alla cultura nel campo architettonico. Nella mostra che oggi verrà inaugurata saranno esposte, ad esempio, alcune opere realizzate sui nostri pannelli, come amava fare il mio zio dal maestro stesso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.